Un minuto di raccoglimento e un omaggio floreale alla mamma prima del calcio d'inizio, questi momenti salienti che hanno preceduto l'avvio del quinto Memorial di Calcetto per ricordare il giovane Massimiliano, un'iniziativa promossa dagli stessi amici con il coinvolgimento del consigliere Fabrizio Diddio e abbracciata dall'assessorato allo sport del comune di Caltanissetta. Un giovane scomparso prematuramente che negli anni è stato ricordato non soltanto attraverso manifestazioni sportive come questa, il primo Memorial infatti è stato organizzato nel 2013 ma anche attraverso la solidarietà, infatti ad esempio in occasione della presentazione di una canzone a lui dedicata sono stati raccolti i fondi da destinare ad una realtà del territorio o ancora a lui è stata anche intitolata un'aula in una scuola. Massimiliano Chierenza, un ragazzo stupendo, meraviglioso, che è venuto a mancare dieci anni fa e che con il suo sorriso praticamente regalava la gioia a chi gli stava vicino e ai suoi amici. Noi vogliamo per me aver contribuito ad organizzare questo evento, ringrazio l'assessore Caracausi che ha dato disponibilità del campo con l'amministrazione, per me è stato veramente un piacere ed è stato addirittura emozionante. Dopo l'assenza del Memorial per qualche anno dovuto al Covid e anche perché la famiglia si è ritirata un po' per motivi propri, hanno ripensato questi amici di Massimiliano, grazie all'aiuto anche del consigliere Fabrizio Di Dio, a organizzare questo quinto Memorial per ricordare Massimiliano. L'affetto sempre vivo di questo ragazzo giovane, che gli amici che stanno giocando e altri lo chiamano gigante buono, perché mio figlio era un tipo alto, 1,94 m di altezza, era un po' sentito come fisico, e gli amici chiaramente lo chiamano gigante buono perché era buono di carattere, affabile, sorridente, eccetera. Delle cose che la famiglia non pensa che un ragazzo così dall'oggi a 2 anni sparisce, ma viene sempre pensato sia degli amici, sia di chi lo conosceva, come un ragazzo sempre disponibile, buono, un ragazzo educato, ovunque, e quindi viene ricordato sempre in base alla sua azione, l'affetto che dava, il sorriso. Massimiliano era un amico di tutti, a dire la verità, abbiamo organizzato questo Memorial proprio per ricordarlo, per fare in modo che il suo ricordo continui ad essere sempre vivo nei nostri cuori. Diciamo, la mancanza è tanta, siamo vicini alla famiglia in questo dolore che giustamente non ha tempo, però nel nostro piccolo facciamo questo e speriamo che possa sorridere dall'assù.